Ok, togliamo le parti noiose davanti. Come avete sentito, sono Giustino Borzacchiello, potete trovarmi un po' ovunque come job staff, a volte scrivo su borzacchiello.it e sono sviluppatore WordPress a Drackey, un'azienda di Milano. Bene, sono sicuro che ci sono molti sviluppatori in sala e ognuno ha il suo approccio allo sviluppo a WordPress, ma tutti seguono la prima regola dello sviluppo WordPress, ovvero non toccate il core. Chiunque lavora con WordPress sa che non deve modificare i file del core. In questo caso, che cosa intendiamo con core? Il core è quello che scaricate da wordpress.org, tendenzialmente sono tutti questi file che si trovano in queste due cartelle, wp-admin, che contiene i file che servono per il pannello di amministrazione di WordPress, e wp-includes, che contiene tutto il resto. Ovviamente non dobbiamo toccare il core, ma questo non significa che non possiamo leggerlo. Essendo software open source, possiamo dare un'occhiata sotto il cofano, ed è questa la bellezza di software open source. E quindi, quello che andremo a vedere è una carrellata di alcune funzioni che ho ritenuto utili o interessanti, e partiamo con la prima. La prima funzione che vi presento è checked, è una funzione molto utile da utilizzare per verificare se un input in un form è settato oppure no. Penso che qualunque sviluppatore PHP ha scritto codice del genere dove controlla che il valore sia uguale a un dato valore predefinito e stampa checked. Potete semplificare questo codice in questo modo. La funzione checked accetta due valori in ingresso, quindi il valore predefinito con cui confrontare e poi il valore dinamico. La funzione checked ha due sorelle, selected e disabled. Come sognavo di dirlo da liceo, lascio al lettore il compito e andare a vedere che cosa fanno. Essenzialmente funzionano con le select e per disabilitare i campi. Andiamo avanti. Vi presento una famiglia di funzioni. Le escaping function. Non so voi, io all'inizio della mia carriera ho sempre avuto difficoltà a ricordarmi che significava escape. Un piccolo trucco mentale. Ricordatevi che il minore viene tradotto con and lt. Quindi, se volete ricordarvelo potete fare così. Dicevo, è una famiglia di funzioni, ce ne sono di tutti i tipi, effettuano l'escaping di quello che viene passato in ingresso. Cioè per le sequele, per le url, per il js, per l'html. Ma vediamo con un esempio pratico per cosa possiamo utilizzarle. Allora, qui abbiamo un ipotetico input che viene dall'utente. Quindi in alto abbiamo un href e poi un titolo. Potrebbero venire da un form, dall'url, qualunque. E questo url e questo titolo vengono stampati all'interno di un template. Quindi in un A, in un ancora e in un titolo di primo livello. Facendo in questo modo quello che otterremmo è qualcosa del genere. nel source code nel source html. Quindi l'href viene stampato così com'è e il titolo pure. Quindi se voi andate a eseguire questo codice vi trovereste un alert come primo messaggio e andando a cliccare sul link un altro alert. Ovviamente l'alert di per sé non è malevolo. ma il fatto che l'alert venga eseguito significa che può essere inserito del codice javascript malevolo che potrebbe non fare quello che volevate. Semplicemente basta sostituire l'eco con le escaping function. Quindi in questo caso askurl and ask html e otteniamo qualcosa del genere. L'href non viene per niente stampato perché javascript non è un protocollo permesso. Quindi siete al sicuro. Mentre il titolo viene stampato così com'è. Quindi verrà stampato minore, script e così via. Ricordatevi sempre di effettuare l'escape il più tardi possibile. quindi nei vostri template. Diciamo è una regola per mantenere il codice sicuro. Bene la prossima funzione le prossime due sono degli helper veramente molto piccoli però possono servire di quando in quando. Questa funzione controlla se il device che sta utilizzando l'utente è mobile oppure no. Con mobile si intende lo smartphone e tablet. Si potrebbe utilizzare in questo modo quindi aggiungere un file javascript solo per la versione desktop del sito altrimenti evitare di includerlo o qualsiasi altra cosa insomma. L'altro helper è questo qui Wpnorobots la funzione così piccola che l'ho scritta per intero non fa nient'altro che stampare un metatag che dice ai bot del motore di ricerca di non indicizzare la pagina. L'utilizzo potrebbe essere qualcosa del genere abbiamo una pagina che non vogliamo indicizzare e aggiungiamo questa action nel led in modo tale da evitare l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Andiamo avanti. Un'altra funzione molto utile WpParseArgs Questa funzione facciamo un po' di attenzione unisce dei valori di default a dei valori forniti dall'utente sovrascrivendo i valori definiti dall'utente a quelli di default è un gioco è un gioco di parole ma di fatto è questo abbiamo dei valori di default qui e dei valori forniti dall'utente e options sarà l'unione di questi due array quindi sarà questo array qui prenderà count dal array di default perché la chiave non è presente nell'array fornito dall'utente e prenderà order by e order da questo qui quindi sovrascrivendo i valori di default di fatto un utilizzo se ne fa uso molto nei widget quando abbiamo dei valori di default per l'istanza del widget in esame e quindi viene usata parseArgs per sovrascrivere questi valori di default bene passiamo all'ultima funzione che è wp-send-json-success viene utilizzata molto spesso quando ci molto spesso sempre quando ci sono degli ajax handler e serve per inviare all'ajax handler la risposta indicando successo come potevate conoscere dal nome quindi solitamente quando facciamo una richiesta ajax abbiamo qui utilizzato jQuery potete usare qualsiasi libreria abbiamo una richiesta del genere quindi abbiamo i nostri dati che indicano un action e in questo caso un post id facendo una richiesta post dall'altro rato risponderà un callback un handler php quindi in questo caso il my action di prima questo viene recuperato qui e il post id che era qui viene indicato qui dalla variabile post quindi filtrando il post id immaginiamo di recuperare con questo post id un post dal database di wordpress recuperare qualche dato da questo post e lo inviamo in questo modo quindi abbiamo preso output data utilizzando il post id e lo inviamo con vp send json success quello che succede è che questa funzione manda un oggetto formato in questo modo quindi ha due chiavi success e data success sarà true come dice il nome della funzione mentre data contiene l'output data che abbiamo inviato qui in questo modo se vi ricordate il callback javascript che abbiamo visto prima riceverà in ingresso questo oggetto quindi questo oggetto qui sarà response e controllando se success è true possiamo eseguire qualsiasi altro codice come prima anche questa funzione ha delle sorelle vp send json error lascio a voi immaginare che cosa fa e vp send json che è diciamo un po' il padre di tutte e due dato che vp send json success e vp send json utilizzano quest'ultima bene finita la carrellata che è stata molto veloce chiediamoci da dove possiamo partire se volessimo cominciare a guardare dentro al core io ho individuato alcuni file ovviamente non sono gli unici ma penso che siano interessanti c'è vp includes general template che contiene per la maggior parte template tags esempio isom lo trovate qui vp includes function è un altro file che potete leggere e ci sono funzioni come dice il nome di vario genere e varia grandezza dateci un occhio perché ci sono tante cose interessanti poi c'è il file formatting .php sempre su vp includes che contiene funzioni riguardo stringhe, date e formattazioni in genere e poi c'è un ultimo file pluggable guardatelo qui ci sono delle funzioni molto interessanti anche molto complicate che potete sovrascrivere ovviamente se le sovrascrivete dovete sapere che cosa state facendo perché cambiano in modo sostanziale il comportamento di wordpress quindi fate attenzione quando sovrascrivete le funzioni in questo file diciamo come altro consiglio vi posso dire di andare a guardare questo sito che è la developer reference qui potete cercare e trovare tutte le funzioni che sono incluse nell'ultima release di wordpress potete guardare il codice viene stampato viene automaticamente generato dal phpdoc che trovate sopra la funzione una cosa utile e comoda è questa parte qua che include tutte le funzioni nuove introdotte nell'ultima release di wordpress quindi se volete vedere che cosa c'è di nuovo e volete vedere queste funzioni che cosa fanno e come è scritto il codice potete andare lì bene per terminare vorrei che vi portasse a casa tre cose leggete il core ci sono tante funzioni interessanti tante cose che sono già state scritte e che potete riutilizzare molto spesso è interessante andare a vedere anche quali librerie javascript sono già incluse nel core senza scaricarle all'esterno molti ad esempio non sanno che jQuery UI è all'interno del core oppure ci sono altre librerie javascript cercate di comprendere il codice spesso il codice del core è molto complicato anche delle funzioni che dovrebbero essere semplici nella nostra testa sono più complicate del previsto perché? perché il codice di wordpress non è il codice che noi scriveremmo per il nostro sito quindi deve sopravvivere in tanti ambienti differenti e quindi spesso questa è la ragione per cui il codice magari è un po' più complesso di quello che vi aspettate e la terza cosa è che ovviamente il codice del core è scritto da persone quindi se voi trovate un errore potete contribuire potete correggerlo potete pensare di lavorare come abbiamo fatto ieri al contributor day e migliorarlo diciamo la polemica sterile di dire wordpress fa schifo perché questa funzione fa schifo perché questo approccio fa schifo è quello che è sterile quindi possiamo possiamo migliorarlo e per i compiti a casa potete andare a vedere queste funzioni questa è la mia preferita andate a vedere che cosa fa le altre anche sono molto interessanti provate ad aprire il vostro IDE per esempio in PHP Storm è molto comodo navigare nel core di wordpress e andate a vedere che cosa fanno bene ho finito grazie